Buongiorno ragazzi! Nella lezione di oggi vediamo l'ultima fondamentale operazione tra monomi, l'elevamento a potenza. Le potenze di monomi sono come le potenze di numeri, che già conoscete. Fare la potenza di un monomio significa moltiplicarlo per se stesso il numero di volte che è indicato nell'esponente, esattamente come facevamo con i numeri. Proviamo a ricordarlo con qualche esempio. Quando eleviamo un numero come 4 per un esponente, ad esempio 3, stiamo moltiplicando 4 per se stesso 3 volte. Quindi stiamo eseguendo la moltiplicazione 4 per 4 per 4, che fa 64. Partiamo allora dal monomio più semplice, quello che contiene una sola lettera, x. Se vogliamo fare la potenza con esponente 3 di x, che scriviamo x alla terza, stiamo moltiplicando x per se stesso 3 volte. E lo indichiamo semplicemente scrivendo x alla terza, appunto, ovvero x con esponente 3. Pochi calcoli, mi piace! Bene! È anche più facile che con i numeri. Aumentiamo però la difficoltà. Proviamo a prendere il monomio 2x e facciamo la sua potenza terza. Dobbiamo moltiplicare 2x per se stesso 3 volte. Quindi 2x per 2x per 2x. facciamo un passo alla volta. 2x per 2x fa 4x al quadrato. 4x al quadrato per 2x fa 8x al cubo. Il risultato è quindi la potenza terza di 2, cioè del coefficiente numerico, moltiplicata per la potenza terza della parte letterale, x al cubo. Senza fare ogni volta tutte le moltiplicazioni e, ricordando le proprietà delle potenze, possiamo trovare senza difficoltà la potenza di un qualunque monomio. Nel nostro caso, 2x elevato al cubo equivale a 2 al cubo per x al cubo. Quindi 8x al cubo. Vediamo ora quindi la regola generale e poi proviamo ad applicarla ad altri esempi. La potenza di un monomio è un monomio avente per coefficiente il coefficiente elevato all'esponente della potenza e per parte letterale tutte le lettere aventi ognuna per esponente il prodotto tra il proprio esponente e quello della potenza. Ecco, così mi sono perso. Facciamo insieme un esempio. Prendiamo un monomio un po' più complesso di quello precedente, come ad esempio meno 2x al quadrato, y al cubo, zeta. Proviamo a fare la sua potenza quarta. Scriviamo allora meno 2 elevato alla quarta, che fa più 16 come coefficiente, proprio come dice la regola. Poi per la parte letterale prendiamo ogni lettera con il proprio esponente e la eleviamo a potenza quarta. x al quadrato tutto elevato alla quarta, per le proprietà delle potenze, è proprio x elevato a 2 per 4, cioè il prodotto degli esponenti. Quindi x elevato a 8. Continuiamo allora a seguire la regola. y al cubo elevato alla quarta fa y elevato a 12, moltiplicando sempre gli esponenti. E infine z elevato alla quarta. È come dire z elevato ad 1 elevato alla quarta, e quindi 1 per 4 è 4, e quindi otteniamo z alla quarta. La potenza quarta del nostro monomio sarà quindi allora a più 16x alla 8 per y alla 12 per z alla quarta. Chiaro ragazzi? Ci sono troppi esponenti, mi mandano in tilti il cervello. Il trucco ragazzi sta nell'affrontarli uno alla volta. Prendete una lettera alla volta, come abbiamo fatto proprio adesso, e fate la potenza richiesta. Un passo alla volta, così siete certi di non sbagliare nulla. Alla prossima!